e bella a tutti ragazzi eccoci ora in questo nuovo video su gita 5 online regalo per iniziare il video vi ricordo il mio gruppo telegram giù in descrizione per gare, per fare missioni, per fare colpi, chi più ne ha più ne metta se avete bisogno di qualcosa, di queste cose, entrate nel gruppo telegram mi raccomando attenzione regalo, nuova gara creata dallo zione per mitico Lipao Gamer si chiama Lipao Mega Rampe numero 9 nuovo skill test con la cuccio drag siamo abbastanza full lobby, 3, 2, 1, let's go inizia ragazzi, inizia lo sclero più totale, attenzione attenzione l'ozione, ah ho dimenticato a dirvi che l'ho creata con le soffici mani ovviamente non mi toccate qua per fare ok ovviamente soffici mani è anche l'hashtag della gara di oggi hashtag soffici mani dell'ozione attenzione, andiamo a prendere i primi check easy easy, qua nell'aeroporto stiamo andando bene, attenzione, attenzione passiamo qua, ah peccato, volevo fare passare nei luoghi stretti ma niente, abbiamo beccato qualcosa che è di piccolo comunque regà ora bisogna salire le scale mazzina le scale, vai regà, attenzione qua se la giocate perché se andate troppo veloci rischia di superare tutte le scale quindi media velocità, media velocità come sto facendo, vedete adesso metrollo l'ultimo ok, no, 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 metrollo media velocità così è perfetto, vai easy rect, ok quanto scopa veloce sta moto regà mazzini è vai, apriamo la porta dell'inferno no, 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 no apriamo le porte dell'inferno oh, per favore, vai sali bruzzo, signore no, 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 no ho paura che va che se trolla mazzina, vai velocità, velocità velocità guardate come sgomma, ammazza vabbè, regà amo questa moto a parte che in partenza ci avete 30 anni però comunque sgomma velocissima GG ora andiamo avanti col parkour che stiamo solo all'inizio belli miei seguita la freccia qua rallentamento perché serve boom check preso aia, aia non te fa male oh brutto signore non ti fare male andiamo su oh allora, il check è là dentro vedete la freccia là oh, no, no, no non guardate adesso perché se no mi trollo adesso vi faccio vedere la freccia eh ecco la freccia bisogna entrare là dentro con la moto attenzione oh ericot my friend ericot mazzina ho sbagliato zio andiamo a vedere va attenzione vai attenzione lo zione ok ora siamo entrati alla perfezione voi mi direte Romana ma c'entra un buco che non lo centri mai io vi devo dare ragione raga non lo centro vai boom vai di glide belli miei di glide oh 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 vali ericot siamo saliti troppo tardi rifacciamo c'è il palazzo troll lì eh mazzine che ha insomma recuperati uuuu c'è il palazzo troll vai bello mio vai acuccio sali 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 oh opium nice l'abbiamo superata allora raga dobbiamo arrivare sopra quel palazzo lì vedete il check dove è il mezzine allora facciamo attenzione la cuccia drag ragazzi per i glide è fantastica mi piace attenzione 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 lo zione non vedo più lo stun check però me lo pigliamo non te ne preoccupate ah ok respawniamo ora si va a fare il bagno in piscina attiviamo la registrazione attenzione alla parte dell'ozione qua fatevi sapere nei commenti se vi piace sta gara ma non mi ricordo dove era la piscina ma eccola ecco la piscina guarda che bella piscina volevo fare il medio com'è che si faceva il medio sbagliato pulsante non lo fa ah si ah in glide mi sa che non lo fa vabbè dai niente medio andiamo direttamente in piscina e basta volevo fare le miniature quelle epiche io no e invece non si può fare andiamo direttamente dai ok siamo giunti nella piscina va 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 mamma mia che veicolo attenzione attenzione adesso abbiamo ancora un po' di glide da fare vediamo qua velocità boom allora però ora siamo belli primi per la nostra gara ci mancherebbe spero che qualcuno arrivi no macchina un altro glide questo è abbastanza semplice chi non sapesse fare il glide sta parte può andare anche in strada perché c'è che in terra ci metterete vent'anni ad arrivare però si può fare a parte che se non sapete fare il glide non arrivate neanche qua perché sono due glide da fare che se non sai farlo non riesci ad arrivare qua quindi è facile il glide dovete solo allenarvi anche io all'inizio quando iniziate a giocare a GTA tanti anni fa qua ho sbagliato il glide e qua superiamo tutto belli miei par favor tengo famiglia riquet ma c'è una riquet ma perché ho sbagliato il glide ma c'è una chi è che sta arrivando xui meno male che sta arrivando regà almeno almeno ci vi diamo la prima posizione se no poi mi dite eh Romanai concludi sempre due gare ho capito ma se stiamo tre ore che devo aspettare tre ore il video dura 90 anni e ciò non mi garba quindi se c'è qualcuno dietro mi fa piacere guarda non so perché ho continuato a glideare ma potevamo anche andare giù così giù così andiamo direttamente al glide dai per farci perdonare del fail di prima ok abbiamo preso il check respawniamo e rapidi abbiamo fatto due tre fail epici eh beccate questo big beccate questo big swing maizia come ti permette al brutto signore di fare queste cose andiamo 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 me lo trollo maizia maizia ecco che si è trollato è racket tutto piano guà oh attenzione forse da qua ce la facciamo eh eh ma qua aspetta aspetta forse da qua ce la facciamo belli miei non so se ho chiuso lì forse sì forse no no non ho chiuso ok quindi se vi trollate lì raga ce la potete fare lo stesso senza che rifate tutto vedi scoperto la nuova via oggi io nelle proprie gare ok qua attenzione questa è la parte dello sclero eh qua dovete stare attenti perché si bagga la moto in questo scalino qua vedete quindi dovete cercare di andare veloci ho anche rischiato e sono andato piano qua aspetta così veloce impennate anche un po' spero che non mi si bagga però se mi si bagga vi faccio vedere qual è il bag però io non voglio testare sulla mia pelle il bag attenzione ok anche la bati si bagga qua cioè sta parte qua con lo scalino per le moto è micidiale quindi fate molta attenzione raga se volete il link della gara lo trovate nel gruppo telegram basta chiedere e ve lo mando io in persona attenzione ultima parte per favore non cascar non cascar che tengo un po' di famiglia ok non è cascato ora qua ultimo quanto abbiamo rischiato fare gramei su ok let's go check preso ora abbiamo la parte facile qua abbastanza easy eh dobbiamo salire assù però attenzione piano piano qua belli miei non andate veloci perché se no non ce la fate dove è Big Suino è là sta facendo le parti dove c'è il rischio bug guarda che adesso ci raggiungerà sicuramente che lui è bravo a fare i parkour allora giriamoci che ora dobbiamo andare lassù maizzo viene a legare dell'ozione sale sale non fa male boom ok easy check preso e ora belli miei ci rimane che oh avete visto pure qua si bug eh cuccia drag per favore non ti bugare in ogni ogni angolino della mappa per favore che non ti bughi mai allora vai così però bisogna sempre conviene sempre sgommare questa eccola la Big Suino che è a mezzo in a Big ma oh qua ho rischiato qua ho rischiato piano io vado piano regà tanto è per farvi vedere la gara attenzione attenzione entriamo a girare sembra che stai guidando un camion sta cucio drag gira proprio pessima ok via let's go ora nuova parte eh qua poi bisogna glidare il giusto ed arrivare alla piattaforma questa blu ok vai giù poi riglideare leggero glide eh non tanto raga ah ah ho sbagliato ho sbagliato l'ultima bisogna buttarsi direttamente a destra dove big è già arrivato ragazzi l'ho chiamato ed è arrivato allora l'ultima è da easy rect attenzione 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 alla perfezione ok vai buttiamoci già di là glide che non glide mai no 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 ok dai ci siamo siamo atterrati sulla piattaforma ah non ho fatto volevo fare una miniatura anche qua perché era carino beccate questo big mi dico big qua guardate che spettacolo sta zona fantastica è una big e lì va big che facciamo la gara insieme gli altri non so dove siano abbiamo anche membri del grandissimo Nipo Gamer in gara GG GG per lo zio tutti vogliono giocare con lo zio ragazzi mi raccomando trovate il link della crew in descrizione se volete giocare con me mi raccomando siamo tipo quasi mille attenzione quindi è già quasi piena però libererò spazio appena si riempie e gli toglierò un po' di inattivi allora ecco lo che arriva big come ti permetti big e sui na ma è sui na beccati ancora questo stiamo facendo gestaggio e big tutta la gara mitico big attenzione uuuu uuuu guardi abbiamo rischiato di trollarci pesantemente ok abbiamo dato un colpo di freno qua facciamolo un medico non lo facciamo mai al povero big sali impennando ok qua ancora leggeri glide oh no no troppo 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 errect invece era si era troppo abbiamo beccato abbiamo beccato il paletto in alto e sembra che non ce la fa sta moto ma in realtà va alla perfezione ok primo dai cerchiamo di fare il secondo subito alla perfection eh sì perché c'è un glide strano questo eh sembra che ci arriva ma in realtà eh gg poi abbiamo l'ultimo questo qua è più complicato guarda ho che a salire di brutto regà vai così ma ma le spawniamo ora là ci sono dei piccoli salti da fare uno ah ok io faccio tutto alla velocità vediamo se riusciamo è l'ultimo però è da recta ho provato allora andrebbe andrebbe meglio farli piano piano eh però io voglio provare a farli veloci vediamo se riusciamo vai eh fammelo un rimbalzino che non me lo rimbalzi mai due tre vai 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 oh ce l'abbiamo fatta tutta la alla velocità ora abbiamo le ruote dei criceti da fare attenzione e qua è trollo la situazione qua dovete prendere un po' di rincorsa belli miei va qua qua eh ma e buttarvi di là ok primo è fatto poi rincorsina abbiamo il secondo cerchio dei ah ah ok ci siamo ci siamo pensavo che non ce l'avremmo fatta invece si poi l'ultimo è alto eh quindi attenzione saltate in alto ok no l'ultimo questo è il penultimo l'ultimo è dentro il rosso è dentro il cerchio rosso vediamo un po' vai ma ha calcolato tutta la precisione lo zio eh raccata allora raga fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate di questa gara ok secondo me è fantastica è divertente giocare con i vostri amici eh allora easy 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 qua prendete tutta la rincorsa raga perché serve vai boom ok abbiamo altri due credo altri due saltellini da fare vai guarda come sgomba la ruota a mezzo vai 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 ok vare favare l'ultimo non te agitare non te agitare con questa cucio drag l'ultimo dovrebbe essere bastante easy vai bastante easy ok qua dobbiamo respawnare per forza ora dove è big dove è big per favore big dove sei non me la cerro solo e là sta facendo i saltellini mi sa big vabbè a rincorsa ora verso il verde raga tutto a destra tutto tutto a destra perfetto ora ancora un po' di rincorsa l'ultimo l'ultimo glider raga è tosto non di questo ma proprio per il traguardo vai così poi abbiamo il checkpoint lì attenzione vediamo se riusciamo a prenderlo alla prima è una gara saltellante questa molto divertente raga vai sì sì alla perfezione big dov'è big no ancora in fondo raga niente andiamo a concludere questa però di big è la prima posizione perché è la secondo e io non valgo perché è la mia gara big su inu la winery attenzione però non è detta che prendo sto traguardo al primo colpo perché è complicato dovete fare un po' di glide girante con la moto ora spunterà la freccia vedete entrare dentro il tubo che ho messo nella freccia dove è la freccia sparì dalla freccia si è magnata la freccia eccolo pensavo che si erano magnati la freccia no ho preso come me l'ha preso non lo so non me lo chiedete ma l'ha preso GG ragazzi spero che questa mia nuova creazione vi sia piaciuta lasciate tanti bei like lasciate tanti bei commenti e noi come sempre ci mettiamo al prossimo video bella rega